ciao ragazzi questo è il palazzo di sultano noi siamo guarda i nostri clienti italiani proprio stanno facendo foto di palazzo è tutta la zona di governo anche commerciale si tutta la zona qua guarda c'è la museo nazionale guarda le fortezze il palazzo di sultano è costruito nel 1972 lui è diventato sultano nel 1970 dopo due anni lui è costruito il suo palazzo fra due fortezze emirali anche quelle girali al dietro dietro di questo palazzo anche il dietro di questo palazzo c'è pure una spiaggia spiaggia principale spiaggia personale di sultano grazie ciao